Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un nuovo sfondo per i miei video perché ho uno sfondo di qua, uno sfondo di là e quindi voglio avere anche uno sfondo di qua. Essenzialmente il mio studio è un continuo work in progress, nel caso voi non ve ne poste accorti, viveste su Marte e mi seguiste con un occhio e un orecchio solo, ma anzi senza occhi e senza orecchi perché io sul mio canale costantemente escono video della serie la mia nuova scrivania, la mia nuova postazione, la mia nuova di qua, la mia nuova di là perché io ho questo problema, io sono un'anima in pena creativamente parlando e non riesco a smettere di cambiare. Ad esempio l'altro giorno ho detto a Davide ah ma lo sai che non so se il logo mi rappresenta più tanto, ho visto che il cuoricino ha gli occhiali io non li porto più e Davide era così, passeremo mesi terribili perché io non solo voglio cambiare rompo le palle a tutti quando voglio cambiare, quindi voglio cambiare questo sfondo se notate è già cambiato, non so se con queste luci si vede bene o no, però è già cambiato perché abbiamo un muro di finti mattoni. Allora, io ho dovuto farlo ieri sera questa cosa qui perché c'era mio papà a farlo da soli, è impossibile o meglio è possibile ma fate tanta fatica rischiare tanto di sbagliare con una cosa che non si può mai togliere dal muro quindi io vi consiglio di farlo almeno in due di prendervi il vostro tempo sono dei pannelli autoadesivi come vedete non si vede la fine di ogni pannello, cioè sembra davvero un muro di mattoni continuo perché semplicemente li abbiamo tagliati maschio femmina, maschio femmina, un pezzo con la fuga, un pezzo senza fuga insomma ragazzi è stato un calvario, è stato lunghissimo, ci avevo messo due ore e mezza a fare questa cosa quando io pensavo che bastasse mezz'ora sono autoadesivi, quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo tirato una linea dallo specchio perché se vi ricordate lì ho lo specchio anzi lo faccio vedere lì ho lo specchio con le rappanine e quindi sì, oh mio dio questa cosa qui non la faccio mai io spostare la telecamera mentre sto filmando comunque oggi è così perché è un video creativo cose, insomma praticamente qui vorrei iniziare a filmare qualche story time perché gli story time di solito le filmo lì quella parete di fiori lì temo di avere anche cambiato l'altezza da 3 insomma io filmo i video lì nella parete di rosa gli story time con lo specchio, con le luci, i video beauty sulla scrivania di qua non girerò più la telecamera sulla scrivania di qua io giro i video creativi di qua volevo avere uno sfondo comunque da alternare per girare preferiti, per girare qualche story time perché lo sfondo più con le rosa è un po' pesantone insomma siamo partiti da sopra lo specchio da quello specchio lì abbiamo tirato una linea con la matita in realtà non una linea dei segmenti di linea con una squadra cos'è che è quella roba lì? è una rifinitura per lavori che avevamo da quando abbiamo fatto il cantiere in questa casa e abbiamo tirato appunto la linea in modo tale che capissimo cos'era il molla perché ovviamente la linea l'abbiamo tirata con la molla che ci diceva cos'è la tripe e cosa no e a quel punto ci siamo messi abbiamo incollato con tanta pazienza interlacciando i pannelli che comunque sono costruiti in modo molto intelligente e li metto qua sotto secondo me è un'ottima soluzione anche perché sono molto più pulibili per una parete tipo per la camera di un bambino mi sono più pentita di non avere i presenti per Luca perché i bambini sporcano su questo può disegnare tranquillamente e si può lavare e invece il muro no quindi probabilmente io ci rivestirò a casa con questa cosa qui insomma sono fatti molto bene sono molto intelligenti se tagliati per bene non si cioè sono proprio seamless sono senza non si vedono le giunture quindi adesso cosa volevo fare cioè io volevo farvi il racconto quando avevo già finito invece no perché oltretutto abbiamo un partner per questo video che è Cheers il servizio che ti permette di stampare online le tue foto in tantissimi formati carini con un design veramente super cute e fantastico e in particolare oggi faremo un muro di polaroid lì dietro oppure una striscia di polaroid devo ancora decidere quindi ho deciso di farvi proprio vedere il processo perché altrimenti non mi sarei divertita fare questo video quindi vi faccio vedere un po' di props che ho preso un po' di props che ho preso per questo sfondo faremo le prove dell'inquadratura perché ovviamente essendo uno sfondo deve venire bene essenzialmente in telecamera cioè non deve essere particolarmente utile deve essere solo bello so che alcuni di voi rabbrividiranno al suono di queste parole però deve essere prettamente bello io ho preso alcune cose la prima cosa che io vado a sistemare è questa anzi intanto voglio aprire un attimino di più l'inquadratura perché mi pare un po' strettignacola questa potrebbe essere la nostra inquadratura quindi ci regoliamo oh mio dio si vede gli quaderni oh! scusate, devo sistemare e non provarci mai più a farti vedere in telecamera ok? allora la prima cosa che vi faccio vedere è Qvest ah ovviamente trovate i link di tutte e tutte le cose anche i pannelli tutto quello che vedete trovate i link in info box se si possono comprare online alcune cose purtroppo non si può allora la prima cosa è questa come vedete è una lampada industriale e ha questa lampadina che l'ha scritta love dentro il filamento anche questa è presa su amazon tutti i link sono qui sotto praticamente io non voglio accendere la cia questo pulsante qui che non riesco a farvi vedere si invece ha questo pulsante qui da piede ma noi siamo troppo millennial per usare il pulsante da piede quindi ecco dunque ecco quindi per cui ho comprato questa ossia una presa smart della smart life quindi quindi teoricamente connettendo questa con questa l'ho già configurata ovviamente e connettendola con la presa io dovrei poter fare una cosa figlia e non posso fare niente perché ovviamente serve l'adattatore sciuco la mia vita è tutto un adattatore porca miseria tutto un adattatore ma è possibile che non si riesca a fare nulla senza un adattatore tanto per dire io ho preso un pacco da 10 gli adattatori per le sciuco ma perchè ho preso gli elettrodomestici italiani mi è caduto il cellulare con le sciuco quindi adattatore sciuco non ho l'età bene a questo punto se io dicessi Alexa accendi presa 1 ho tu devo riprendere la mia compostezza non che io ne abbia mai avuta molta però allora in realtà vorrei provare un'inquadratura ancora ancora più ampia ok tipo così tipo così in realtà questa inquadratura ancora un pochino più ampia mi piace se è possibile ancora di più Quindi vediamo perché magari mi metto molto vicina e faccio lo sfocatello dietro Vediamo, nulla è definitivo, quindi c'è rigamissima Ho comprato questa pianta rigorosamente finta, pensile da Maison du Monde Il vaso è molto carino, lo spago fa schifo, non c'era un gancio quindi ci ho messo una tache E ora vi faccio vedere Una tache signori, usate l'hashtag Creamy McGyver per non vincere assolutamente niente Però avere un mio cuoricino nei commenti Quindi praticamente vi ricordate che qui c'erano i cordoncini dei fondali Che sono ancora lì, cioè ci sono i fondali, sono lassù E li tiro giù a seconda della necessità Però io a quel cordoncino lì posso appenderci questa pianta Li abbiamo tagliati in modo tale che siano tutti gli obiettivi Però posso metterci questa pianta E questa potrebbe essere la fine di questa pianta Funziona da Dio, funziona da Dio Ci sono davanti, non lo vedete Funziona da Dio Lì abbiamo una lampada Ho altri props da mettere Però prima vorrei fare la parete Polaroid Ah che format dinamico e frizzantina Tanto vediamo se ci piace così A me piace questa inquadratura Devo dire la verità mi piace veramente una cifra Cheers che è lo sponsor di questo video Mi ha fornito questa bellissima scatoletta di stampe vintage Che sono simile Polaroid Scatola scelta di un colore a caso Foto dentro di un colore a caso Ho stampato tutte le foto rosa che io avevo E praticamente farò un muro di Polaroid rosa Ma non vuole essere un muro Io vorrei che si vedesse Cioè l'inquadratura sarà più o meno questa Vorrei che lì si vedesse il muro di Polaroid Però che si continuasse a vedere anche il muro Altrimenti fa effetto troppo pieno Per tutti i prodotti Cheers Avete un codice sconto che vi danno solo alla fine del video Perché sono una cattivona Credo che farò una striscia verticale Che secondo me è più versatile per tutti i tipi di video Piuttosto che una cosa quadrata Ora vediamo Credo di avere 47 Polaroid Ho stampato il numero massimo di stampe vintage Ah ci sono in due dimensioni Io le ho prese piccoline perché preferivo un effetto più movimentato con più foto Però ci sono anche le Polaroid Insomma le stampe vintage un pochino più grandi Quindi iniziamo subito Io le attaccherò con questo Tra le altre cose Incluso in questa box Ho visto che c'è questa bellissima Card di Cheers Che in realtà è un'aggiuntiva Polaroid Con un cuore fatto appunto delle vostre stampe Questo può essere un buonissimo modo per avere un layout a cuore Cioè se seguite questo avete un cuore molto carino Vi dà anche un'idea di come disporre le stampe Insomma è una buona idea Ma qui non facciamo un cuore Perché noi siamo sobri La sobrietà è la mia miglior virtù Quindi facciamo semplicemente un muro di Polaroid rosa Ci siamo Non è difficile andare dritti qui Perché abbiamo le fughe del finto muro Che sono perfettamente dritte Ok Non la vedete la prima? L'ho messa troppo in alto L'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione È utilizzare sempre la solita distanza Sia sopra e sotto che di là Un'altra cosa che faccio è alterno le inquadrature Tipo queste due che sono state scattate insieme Non le metto vicino Cerco di mettere lontane Cerco di alternare Come faccio su Instagram d'altronde È un'inquadratura da lontano Un'inquadratura da vicino Un dettaglio Un oggetto Cerco di non mettere vicino gli stessi soggetti Credo che a questo punto ve deciserò un pochino video Semplicemente perché vedermelo fare continuamente Sarebbe noioso Voglio mettermi un telefono sottofondo E soprattutto perché voi avrete a disposizione Così un fantastico montaggio velocizzato Del processo Che sono delle cose veramente super soddisfacenti da guardare Non lamentiamoci Vieni qua Vieni a guardarti Guarda un po' che c'è qui Decidiamo il nuovo sfondo della mamma Guarda il microfono Guarda su Luca Guarda su Guarda su Guarda un po' più Guarda qui No Ne si va Stai giocando con un microfono È un incubo Questa cosa non avrebbe mai finito Sono tipo le robe di sera E non abbiamo finito Muoio Sì io farei un'altra fila Hai ragione Allora direi che ci siamo Quasi Insomma Questo è più o meno come Mi immaginavo lo sfondo Il muro di polaroid mi piace Moltissimo È veramente veramente carino Anche perché si presta ad uno sfondo un pochino così Arieggiato Ma anche ad uno sfondo un pochino più Stretto Cioè così è veramente figo Il fatto che ci sia una lampadina La pianta un pochino gasce Le polaroid Posso Ecco così Guarda bello Bene Questo è lo sfondo diciamo al massimo dell'apertura Che io terrò Ora È un po' vuoto in alcuni punti È un po' incasinato in altri Tipo quei quaderni devono sparire tipo adesso Scusatemi Siete delle cattive persone Vi faccio vedere gli altri props che ho preso Ho trovato da casa Casashop.com Si chiama Ma io ho il negozio fisico Abbastanza vicino Se me lo stesse chiedendo Il nome è questo Si chiama casa Ho preso Un po' di cose Temo di aver appena rotto qualcosa Ho preso questo cactus Che sembra Quasi vero Ose dire Veramente carino Con questo vaso L'ho pagato 17,99 È veramente cute Guardate C'è anche tutti i piccoli Aghetti Cactusosi Quindi Questo Aspettate un attimo Lo poggio qui Perché c'ho anche il vaso Che credo che sia la cosa Che io ho sentito Cedere Ok Il vaso è intero Il vaso è questo E mi piace tantissimo Vi faccio vedere come sta Con il cactus dentro Se mi decido Se metterlo qui Così Però forse li muore un po' Oppure qui E secondo me È una cosa migliore Guarda lì È perfetto Ho preso questo Piatto di legno Che forse è Too much Sul legno Quindi andrà per forza Dall'altro lato Allora Poi ho preso Della cosa Che io sentivo Non si è rotta Ecco questo Questo non c'entra Assolutamente niente Ma l'ho visto Ho pensato di meritarlo Tantissimo Un mini bricchetto Per il latte Veramente super cute E minimal Scusatemi Scusatemi Ma io Lo meritavo Quindi questo Non c'entra in niente Con il video Questo Che secondo me È il pezzo forte Che è questo Baule Rosa Di maglia metallica Bucata Tutto a bucarelli Ed è carinissima E secondo me È perfetto Per andare Guarda lì È perfetto È la cosa più vicina Alla perfezione Che vedrete mai qui Anzi Vi dirò di più Aspettate Perché ho anche questo Che ho preso sempre da casa Tac Una piramide glam Quindi ho preso Questo cuscino Con le frange Bellissimo E questo cuscino tondo Altrettanto super bello Che oltretutto Dovreste aver visto Di recente Nella mia foto In Instagram Perché le ho appena Le ho appena usate Per quello Nonostante fossero per il video Così mi sembra Abbastanza wonderful Mi sbaglio No Così ho wonderful Parecchio Bellissimo E a questo punto Io metto questo cuscino Qui Questo cuscino Qui Che in realtà Di base Staranno sulla sedia Nel mio studio Ma quando girerò Staranno lì E qui ci metterò Questo Allora Questo qui Lo voglio per farcelo Entrare In realtà Non è necessario Punto luce di qui Ok direi che ci siamo Ok direi che ci siamo Insomma Questo è il mio nuovo Sfondo Per Non so Uno sfondo Un pochino più neutro Un pochino più stage Del rispetto agli altri Sì Mi piace Una cifra Io credo che Quelle cose lì Andranno pari pari Di lì Normalmente Poi per questi video Magari posso anche un po' Cambiare Cioè i cuscini Magari li tolgo Li metto Cioè Li abbraccio Non lo so Comunque mi piace Mi piace molto Anzi adesso facciamo una prova Di come sta un pochino più stretto Oh mio dio Com'è carino Ancora più stretto Oh mio dio Com'è cute Oh mio dio Lo adoro Lo amo alla foglia Perfetto 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 È stato un po' Parola La vita di quanto ci ho messo Più che altro perché Non ho trovato subito Il modo giusto Di attaccare le foto Ciao Sono la Dali Montatrice del futuro Che si è rifiutata Di fare questo Piccolo take Con la webcam Del computer Perché ha delle occhiaie Che si vedono chiaramente Anche dal filtro Di snapchat Quindi Questa è avanguardia Ragazzi Fare i take Alla fine del video Per correggersi Con snapchat È avanguardia Quello che volevo dirvi È Che Alla fine Il mio adesivo Non ha tenuto Quindi Non vi ho messo Il nome dell'adesivo Che ho utilizzato Perché faceva schifo Si sono staccate Tutte le foto subito È stato un incubo Quindi Ho utilizzato Queste Ossia Le puntine da disegno Bianche Prese all'S lunga Per 2 euro Ne ho utilizzate 4 per ogni foto Quindi niente Volevo solo Tenere aggiornati Su questo mio Piccolo Fallimento E Momento Da men rider Molto soddisfatta Del risultato Io ringrazio tantissimo Cheers Per aver sponsorizzato Questo video E questo è il mio codice sconto Esclusivo Che potete usare Tutti quanti È sempre valido Oltretutto Si avvicina Alla festa Del papà La festa Della mamma Quindi Diciamo Hanno una spedizione Espresso Che funziona benissimo Se siete Nelle canne Con il regalo Vi giuro Che la spedizione Espresso Arriva Dopo nemmeno 24 ore Ma nemmeno Questa qui Mi è arrivata Dopo 12 ore Io ero sconvolta Sciocco Basita Veramente Quindi Anzi Fatemi sapere Se lo userete Per cosa lo userete Io spero Che questo nuovo sfondo Mi piaccia Trovate il link A tutta la lampadina Alle cose Se li trovo Queste cose Che ho preso da casa Se le trovo Online Ovviamente Alla mia box Con cui ho fatto Il mio muro Di polaroid Rosa A tutto quanto Trovate il link In info box Anche per i pannelli Di muro finto Io spero Che questa cosa Vi sia piaciuta Fatemi sapere Se la provate Per cosa userete Questo sfondo E io vi do Un bacissimo Grandissimo Cringi Mamma mia Sembra veramente Ti lobo di bene Bene Vi lobo di bene Tutti Beccatevi questa cosa Se vi è piaciuto Questo video Cliccate il pollice in su Iscrivetevi Cliccate la campanella Ricordatevelo Non me lo sto dicendo così Ma è una minaccia Se non lo fate Vengo a casa nemmeno Queste oltretutto Sono le foto Del mio feed di instagram Ricordatevi che su instagram Ho anche un'inistitiva Che si chiama Crini lettering Ogni lunedì Se facciamo del lettering Seguendo un tema Riposto tutti i miei lavori preferiti E non solo Qui Alla fine del video Del venerdì Metto uno shout out All'artista che mi è piaciuto di più Adesso In questo caso Io inizio con due big Del lettering Che sono La test of me E Cecilia Duinart Che oltretutto Nomino spesso A cui mi ispiro spesso Quindi Loro due Hanno fatto i miei due lavori preferiti Come vedete Non deve essere solo uno Shout out Se volete anche voi L'occasione Di venire Postati In fondo al mio video Partecipate al Crini lettering Su Instagram Iscrivetevi Io mi chiamo Mi iscrivi qui Anche su Instagram Vi sto aspettando Vi siete iscritti Tanti cuori Bene Grazie mille Per avermi guardata Ci vediamo la prossima Fatemi sapere qui sotto Se vi piace questo sfondo Io sono esaltata È bellissimo Lo amo Tornals Sazione SERE SERE